Questo nuovo festival si chiamò Crack. Crack era il rumore dello sparo dei fumetti di Hugo Pratt. Un terzo della storia del Forte è legata in qualche modo a questo festival, che non potrebbe svolgersi in altro posto. Fichissimo! Una maraviglia incontrarti con questa autobia. Llevano 30 anni nel Forte, 12 anni nel Crack. Il confine tra lavoro e vita, quando si fanno questo genere di cose, è veramente sottilissimo, quando non inesistente. Siamo un po' tutti a girare, a comprare pizze con delle telai o con delle carte, e questo è meraviglioso. Crazy party and drawings and more crazy party. That's it. Crazy party.